ok allora oggi come come da programma proseguiamo andiamo avanti col col tema dei file qui dobbiamo siamo così passare un po andare un po oltre rispetto alle cose di base che abbiamo visto ieri e cercare di capire un po i vari metodi che abbiamo per gestire i file le basi essenzialmente sono quelle che abbiamo visto ieri essenzialmente tutto si basano sulla sull'esistenza di questo oggetto di tipo file che noi otteniamo con open e attraverso questo oggetto possiamo avere varie operazioni varie vari metodi per poter leggere o scrivere il contenuto del file secondo che l'abbiamo aperto in lettura o in scrittura i due metodi che abbiamo visto ieri i primi due se più semplici sono read line che leggeva una linea la prossima linea di testo dal file partendo da dalla posizione attuale del cursore cursore immaginario diciamo così presente all'interno del file leggeva l'intera linea fino al carattere di fine linea compreso abbiamo già visto che il fatto che questo carattere fosse compreso ci dava qualche piccolo grattacapo l'altro metodo che abbiamo visto è il metodo write che invece scrive una stringa sul file se poi questa stringa contiene il carattere di a capo allora questo carattere di a capo verrà inserito nel file se non lo contiene non verrà inserito nel file quindi non fa nessuna elaborazione particolare col metodo write noi possiamo scrivere un'intera riga nel file potremmo anche scrivere solamente un carattere o una parte della riga il metodo write assolutamente non interessa non ha il concetto di linea o di riga del file semplicemente le stringhe che vengono aggiunte via via al contenuto del file queste sono due operazioni di base e poi ovviamente costruendo su queste si possono diciamo così costruire dei comportamenti più ampi più complessi ad esempio qui un esempio molto semplice se dovessimo elaborare sempre la nostra solita filastrocca di Mary e la pecorella se dovessimo elaborare per parole noi sappiamo che il read line legge una riga ma questa riga contiene 1 2 3 4 5 parole quale come possiamo fare ad esempio a generare una parola per ogni riga allora qui ho messo dei punti interrogativi ma capiamo che non sono punti interrogativi molto complessi perché operazioni del tipo o una stringa e dividi di questa stringa nelle parole che la compongono lo sappiamo già fare lo faccio è un esercizio che facevamo lavorando con le liste e con le stringhe quindi si tratta di mettere insieme ciò che sappiamo con i file e ciò che sappiamo con l'elaborazione di liste di stringhe per poter arrivare a quello che ci serve in questo momento ok questo ci vogliamo un esempio adesso poi lo risolveremo ci metteremo un attimo ma un esempio di tipi diversi di elaborazione di un file di testo quando io devo leggere i contenuti in un file di testo i tre modi principali in cui posso analizzarlo è una linea per volta e questo già lo sappiamo fare lo sappiamo fare usando read line vedremo tornati in un metodo decisamente più semplice una parola per volta boh non sappiamo fare dobbiamo impararlo un carattere per volta anche questo dobbiamo diciamo così imparare come si fa perché per ora read line ci dà l'intera linea ma sono della linea ci interessa solamente il primo carattere poi ovviamente ci interesserà il secondo poi ovviamente ci interesserà il terzo dovrò in qualche modo riuscire a convincere python a non leggere l'intera riga e non far avanzare il cursore di un'intera riga ma magari solamente di un carattere fino alla posizione del carattere successivo come facciamo beh dobbiamo combinare i metodi che lavorano sui file coi metodi che lavorano con le stringhe ad esempio lavorare una parola per volta questo in qualche modo lo sappiamo già fare dicevamo perché noi avevamo già conosciuto il nostro amico split che data una stringa era in grado di dividerla nelle sue sottostringhe composte diciamo separate dal carattere separatore di nostra scelta ad esempio uno spazio quindi elaborare un file una parola per volta significa di fatto prendere una linea e poi dividerla con split non c'è un metodo diretto in chiama che lavora sul file che faccia questa operazione ce la facciamo noi così come anche le operazioni diciamo di gestione del carattere di fine linea no il nostro famoso barra n e noi abbiamo strip che già conoscevamo che rimuove i caratteri iniziali finali di una stringa quindi se vogliamo toglierci dai piedi i caratteri di spaziatura in eccesso rispetto a una linea letta dal file possiamo usare questa funzione che già conosciamo quindi si tratta semplicemente di combinare in un pattern così un pochino ricorrente quelle che sono le funzioni di base che già conosciamo. Dicevo un attimo fa che l'input per linee per l'input per linee che noi già conosciamo usando usando la read line ne esiste una versione semplificata che useremo parecchio in cui il file ricordate che noi avevamo detto che una lista è un contenitore una sequenza una stringa anch'essa è una sequenza un range anch'essa è una sequenza e tutto ciò che è una sequenza può essere iterato con istruzioni tipo for for in ecco sorpresa anche il file è una sequenza può essere visto come una sequenza quindi python ci presenta l'oggetto file anche lui come se fosse un contenitore un contenitore sequenziale e quindi possiamo usarlo sintassi for in per iterare su un file e lo vediamo come una sequenza di linee un contenitore di linee o di righe che dir si vogliano quindi ad ogni iterazione io vado a estrarre dal file la prossima linea sottoforma ovviamente questa sarà sicuramente una stringa ok non può essere altro e quindi quell'istruzione del tipo for line in nome del file oggetto file mi crea un ciclo in cui ad ogni giro alla stringa line viene associata alla riga successiva del file stesso è un po come se fosse la read line sottintesa in un certo senso e il ciclo for si accorge da solo quando la sequenza è finita quindi quando il file di fatto è finito quando sono arrivato alla fine dell'ultima riga quindi il ciclo che abbiamo fatto ieri che adesso non abbiamo perso perché è rimasto qua meri.readline eccetera eccetera lo potremmo tranquillamente riscrivere con la sintassi del for quindi potremmo fatemelo scrivere subito qua sotto for riga in si chiamava il file si chiamava meri due punti e poi qua facciamo le operazioni solite che dovevamo fare eh su su questa riga quindi io qua copio qua sotto le istruzioni eh per per pulizia io preferisco solo cambiare il nome di questa variabile perché preferisco non toccare la variabile di controllo del ciclo no? una volta che imposto un ciclo for preferisco che la variabile che controllo non capiterebbe nulla perché semplicemente eh andrei a modificare la riga che ho appena retta però mi dà una certa preoccupazione modificare una variabile di un ciclo perché questa variabile serve anche per il gestito del ciclo non capita nulla ma per chiarezza mia diciamo così la chiamiamo la riga modificata e così siamo tranquilli eh e ovviamente le modifiche che dovevamo fare ieri no? Al solito metto il maiuscolo prendo i primi dieci caratteri eccetera e poi stampo questa riga modificata ehm è una se vogliamo non è un obbligo una 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 precisazione in più per distinguere quello che è la riga che avanza da sola rispetto alle variabili che mi costruisco per il mio programma allora se io commentassi tutta questa parte e eh provassimo a rieseguire questo programma con questa seconda parte eh notate innanzitutto che non dobbiamo ovviamente il read line veniva fatto all'inizio e poi dover essere fatto ad ogni singola iterazione qui non c'è nulla di tutto ciò la risoluzione read line è stata scomparsa perché è implicita dentro questa iterazione for in che lavora su una sequenza di tipo file allora se provassi a eseguire questo signore il programma finisce e lui mi creava il file Mary 2 che ovviamente è identico prima quindi quando noi abbiamo un ciclo while basato su una read line molto spesso lo possiamo eh convertire in un ciclo for più semplice con tutti i vantaggi e svantaggi no? ormai li conosciamo il vantaggio è che è più compatto è più semplice devo scrivere meno istruzioni eh lo svantaggio è che la condizione no? di 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 iterazione è è sempre ehm la fine del file mentre io se invece se invece mi scrivo il mio ciclo while la condizione può essere anche più complicata qualora avessi bisogno di una condizione più complessa in cui magari devo fermarmi prima eccetera eccetera ehm la rstrip di cui state parlando nella chat ci serve ci serve perché elimina il carattere di fine linea ok? eh il ciclo for si comporta esattamente come la read line quindi ad ogni riga che ho letto eh ogni riga contiene anche essa il carattere di fine linea così come la read line non ha cambiato nulla quindi se questo carattere di fine linea mi dà fastidio lo devo eliminare ad esempio con la rstrip così come già facevamo prima vedete che il corpo del ciclo non è cambiato per nulla ovviamente qua devo usare riga e non riga modificata perché è la riga che ho appena letto dal file la prendo elimino il fine linea me lo salvo in questa riga modificata converto in maiuscolo estraggo i primi dieci eccetera eccetera ok? eh potrei ovviamente fare tutto su una riga sola su una linea sola riga modificata uguale riga punto rstrip punto a per parentesi 10 parentesi 2.10 ho fatto su più righe solamente perché ieri ricordate l'abbiamo fatto un pezzettino per volta per vedere i vari casi particolari eh Mattia mi chiede dove sono i file sì allora quando io faccio una open di un file eh senza specificare una cartella lui la cerca in automatico nella stessa cartella in cui abbiamo messo il file python eh e quindi di fatto potete creare o copiare un file direttamente dentro la stessa cartella in cui c'è il file in realtà eh lui lo cerca nella cartella da cui avete fatto partire il programma ma nel nostro caso facciamo partire il programma nella cartella in cui si trova il programma stesso quindi per 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 semplicità per ora mettiamo tutto la stessa cartella sia i programmi sia i file su cui lavoriamo eh quindi questa è la scorciatoia di cui vi parlavo eh abbastanza utile ehm attenzione che non è un for normale nel senso che il file non è una sequenza normale se io scrivi se io avessi una lista ok e se scrivessi due volte eh che so for vi in lista faccio qualcosa e poi subito sotto for vi in lista due punti e faccio altre cose non da nessun problema no perché il primo ciclo for eh ehm naviga attraversa tutta la lista e quindi dentro il corpo del ciclo un elemento per volta verranno eh verrà considerato e subito dopo rifaccio un altro ciclo che riconsidera gli stessi elementi di nuovo una seconda volta non mi dà nessun problema ok eh ricom il secondo ciclo ricomincia la lista da capo ecco con i file non si può ricominciare il file da capo quindi una volta che ho fatto un for di questo tipo eh non devo non posso scusate eh ripetere questo stesso ciclo una seconda volta se lo ripeto mi trovo il file già svuotato in pratica no eh e quindi volendo devo chiudere e riaprire il file fare close e open di nuovo se voglio iterare di nuovo su questo file eh il file come dicevamo prima una cosa che una volta letta è consumata no è andata per sempre quindi non posso tornare indietro non posso riprendere a meno di non riaprire o usare altri comandi che posizionano eh il cursore all'interno del file ma che cerchiamo di evitare quindi l'unica particolarità è questa attenzione che una volta lo possiamo fare oppure dobbiamo aprire il file ogni volta che lo vogliamo rileggere da capo ehm ad esempio se noi avessimo un file che contiene una parola per riga vabbè questo qui l'abbiamo scusate l'abbiamo già eh l'abbiamo già visto più volte negli esempi l'unico eh dettaglio era eh qui a questo punto c'è la definizione abbiamo ricordato la definizione di rstrip eh che eh è una variante delle funzioni strip no di funzioni strip ce ne sono tre la strip semplice quella con la r davanti e quella con l'l davanti eh la strip cancella gli spazi davanti e dietro a sinistra a destra la rstrip cancella solamente gli spazi a destra e la lstrip cancella solamente gli spazi a sinistra in particolare la rstrip ci torna utile no per eliminare tutti gli spazi compreso il barrenne finale eh qui c'è la definizione se vogliamo esatta se vogliamo no e qui c'è il riassunto eh di di che cosa fanno queste funzioncine che ci servono di fatto per ripulire un po' il testo letto dal file quando quando l'abbiamo appena letto e prima di elaborarlo quindi togliere carattere eventualmente che che non ci servono ok? Eh vabbè qui ci sono i soliti esempi che di di cui abbiamo già visto con il nostro eh con la nostra pecorella. Torniamo alla domanda iniziale no? Quindi abbiamo visto eh oltre che readline si può anche tirare un file con il for ma lì lavoriamo sempre a riche e se invece volessimo lavorare a parole quindi l'esempio di prima eh vogliamo eh leggere le singole parole da questo file di testo. Eh quindi supponiamo che il file contenga la solita eh poesia e noi vogliamo eh stampare le parole ad esempio a video qua ci chiede l'esercizio eh una per riga una per volta. Ok? Allora non esiste un metodo read parola da file non ce lo possiamo inventare eh e allora dobbiamo per forza lavorare per righe e poi dividere le singole righe. Eh eh ovviamente avremo due cicli giustamente come dice Andrea eh un ciclo più esterno no? Che che eh lavora abbiamo il file con più righe quindi avremo un ciclo che sia il ciclo while readline o che ci sia il ciclo eh for in file eh deve passare dalla prima riga alla seconda alla seconda alla terza e così via e poi quando sono su una riga ovviamente dovrò eh separare le singole parole e poi stamparle una per una una per riga. Ok? Eh proviamo a modificare il nostro programmino vediamo cosa ci viene fuori ma adesso prendo un file eh faccio un file nuovo così non mescoliamo le due l'elaborazione per riga e l'elaborazione per parola chiamiamola Mary questo si chiama leggi Mary chiamiamola parole Mary anzi meglio Mary per parole sembra quasi un titolo di un film parole. Ok eh allora abbiamo detto eh stampa una per riga a video una per riga parole del testo della filastrocca quindi abbiamo eh solita eh a questo punto cominciamo a scrivere ancora un po' meglio no? Cominciamo a strutturare un po' di più il programma come al solito quindi il file name sarà lo metto in una costante così se lo dovessi cambiare ce l'ho comodo ehm e a questo punto poi in file Mary l'avevo chiamato apro il file name in lettura ho aperto e adesso devo leggere posso ad esempio leggere con un ciclo for ogni una riga per volta allora quello che posso fare è ehm dividere noi lo sappiamo già il metodo split dividere la riga eh con lo split ricordiamoci la documentazione di split cosa ci dice non è if ma in scusate quindi poi la sintassi si arrabbiava la funzione è sì split ritorna una lista delle parole nella stringa dove il separatore è la stringa che li delimita ok ehm il delimitatore è quello che voglio io ma se non lo posso specificare come secondo parametro ma se non specifico nessun delimitatore come ho scritto in questo caso aperta e chiusa tonda eh split according to any white space quindi eh taglia ovunque ci sia uno spazio bianco white space è una parola unica che rappresenta spazio tab e a capo essenzialmente no quindi è quello che ci serve taglia dove ci sono gli spazi e scarica ehm scarta eh le eventuali stringhe vuote dal risultato cioè che vuol dire se ci sono tre eh tre spazi consecutivi eh lui non non prende tre separatori e con delle stringhe vuote in mezzo ma le le ignora questo solamente se non ho i specificati delimitatore se invece specificassi delimitatore allora lui prenderebbe anche delle stringhe vuote eh come hm se ci fossero due delimitatori sconsecutivi l'esempio ma lo vedremo se avessero due virgole di fila eh che volessimo fare uno split sulla virgola è giusto che tra una virgola e l'altra ci accorgiamo che ci sia una stringa vuota c'è un dato eventualmente mancante ok quindi in questo caso la posso dividere la riga magari se vogliamo prima eh rimuoviamo eh il 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 la capo finale quindi prendo la riga rimuovo gli spazi in fondo e la divido nelle singole parole che la compongono e quindi questo mi restituisce una lista di string parole è una lista e questa lista la posso poi stampare chiaramente iterandoci sopra parola in parole due punti print di parola quindi itero il file per ottenere una riga per ogni riga la elaboro la estraggo la analizzo la divido in questo caso la divido in una lista e poi iter sulla lista per stampare gli elementi di quella lista queste sono tutte le parole della prima riga poi finito questo for tornerò su passare la seconda riga e stamperò tutte le parole della seconda riga e così via iterando alla fine di tutto ovviamente non ci dobbiamo dimenticare di chiudere la poca la Mary il file ok vediamo se funziona ecco qua il nostro output lunghetto lunghetto perché il file non conteneva solamente le prime due righe ma conteneva tutta la fila strocca quindi avanti cosa succede qui allora notiamo due dettagli che poi decidiamo se ci piacciono o no se ci va bene o no il primo dettaglio è che qua c'erano delle righe bianche ogni delle righe vuote ogni tanto per separare una strofa dall'altra nell'output non c'è nessuna riga vuota è giusto non è giusto perché soprattutto è successo così è successo così perché quando io chiaramente quando c'è una riga vuota non viene ignorata dal nel lettore del file quando c'è una riga vuota la mia variabile riga conterrà un un unico barra n e quindi questa iterazione viene svolta bisogna capire che cosa fa parole allora io per capirlo magari andrei in debug così vediamo tanto è la riga vuota sappiamo che la quinta non dobbiamo iniziamo di perderci troppo tempo andrei in debug per vedere che cosa succede allora apriamo il file prima riga prima riga prima riga è lo sappiamo mary had a little lamb barra n ce l'abbiamo e quando faccio lo split dello strip della riga ottengo la variabile parole che contiene appunto queste mary had a little lamb cinque parole vabbè le stampo 1 2 3 4 5 passo la seconda riga quindi nulla di nulla di nuovo qua in teoria e fa quello che volevamo facesse seconda riga adesso riga vale dove è finito riga vale qua little lamb little lamb barra n faccio lo strip faccio lo split e ottengo le parole che sono little lamb little lamb qua sotto e quindi stamperò quattro volte 1 2 3 4 e torno su e vado avanti così abbiamo un po di pazienza ancora per la terza riga e per la quarta riga ok adesso dovremmo essere sulla riga colpevole c'è quella vuota e vediamo che cosa succede eseguo il for e quindi leggo la riga e dentro riga come mi aspettavo con la riga conti la stringa riga contiene solamente il carattere di fine linea carattere di fine linea che verrà poveretto ucciso da strip e poi il metodo split si troverà di fronte a una stringa vuota allora lo split di una stringa vuota che cosa dà come risultato dà come risultato una lista vuota lo vediamo qua lista contiene zero elementi che ha senso perché se ci chiediamo quali sono le parole presenti in una riga vuota non c'è nessuna sono zero parole per fortuna tutto ha funzionato non ha dato nessuna eccezione la spletti di una stringa vuota non si è arrabbiata non ha dato errore altrimenti avremmo dovuto controllarlo prima non ci avevamo pensato per fortuna è andata bene e in automatico queste funzioni hanno fatto casualmente la cosa che a noi andava bene no altrimenti avremmo dovuto pensarci e gestire come caso particolare le eventuali righe vuote no eventuali righe che non contenevano dei caratteri che non fossero spazi quindi in questo caso se la nostra lista è una lista vuota questo for non viene eseguito neppure una volta quindi questo for viene eseguito zero volte e infatti quando vado avanti cerco di entrare nel for semplicemente passa l'interazione successiva alla quinta riga che è diciamo così la prima riga del secondo verso ok quindi questo è il motivo per cui non non ci sono tolgo il back point finisco l'esecuzione non ci sono queste righe vuote tra una strofa e l'altra perché essendo che io stampo una parola per riga e in una riga vuota non estraggo nessuna parola questa ovviamente non compare nell'output questa è la prima osservazione facciamolo di nuovo girare qua nella finestra sotto così un pochino più grande la seconda osservazione ma allora qui dipende Andrea dice ma no mettiamoci una riga vuota beh questo dipende dall'interpretazione del testo il testo mi dice stampa mi elenco delle parole di cui è composta la poesia e la filastrocca e non mi dice separa queste parole ogni volta che finisce una strofa con qualche tipo di separatore con una riga vuota il testo non me lo chiede a me piace di più questa soluzione che diciamo così puramente stampa le elenco delle parole senza pensarci c'è però ancora un dettaglio che non è perfetto perché ad esempio mary è una parola l'em è una parola ma l'em virgola a casa mia non è una parola perché è una parola che contiene anche un pezzo di punteggiatura quindi dovremmo fare attenzione quando stampiamo la singola parola di depurarla da eventuale punteggiatura che ci sia all'inizio o alla fine della parola stessa in questo caso per questa per questa poesia direi che l'unico fastidio che ci può essere sono le virgole terminali però potrebbe esserci anche un punto potrebbe esserci anche un punto e virgola non in questo file ma in generale potrebbe esserci e allora io quando stampo questa parola non dovrò stampare la parola stessa ma magari cancello da destra la punteggiatura che potrebbe essere virgola punto punto e virgole due punti o altri o gli altri simboli di punteggiatura che ci immaginiamo ci possono essere quindi anche qua ho la prima ripulitura della riga e poi una seconda ripulitura delle singole parole che ho estratto e quindi andiamo avanti proviamo a eseguirlo con questo e ovviamente torniamo alla prima riga questa se settima ottava parola adesso non riesco a contare al volo era una lamb con la virgola questa virgola l'abbiamo tolta ovviamente con la restrip un attimo prima di stamparla Alessia mi chiede se una lista è una funzione come pop per le liste per rimuovere allora posso dipende di cosa di cosa stai parlando parole è una lista e quindi posso eventualmente rimuovere dalla lista ma le stringhe intere invece la singola parola essendo una stringa ricordiamoci sempre una stringa è immutabile quindi non posso aggiungere o togliere caratteri da una stringa devo semplicemente crearne una nuova alla quale sono stati ad esempio rimossi questi caratteri fai attenzione che non dobbiamo sempre togliere l'ultimo carattere perché ci sono molte parole in cui la virgola non c'è quindi non dobbiamo indiscriminatamente togliere l'ultimo carattere dobbiamo scrivere il codice che se l'ultimo carattere non è una lettera allora lo tolgo qualcuno potrebbe dire sì sì va bene lo so lo so fare perché posso dire che while parola di meno uno parola di meno uno è l'ultimo carattere parola di meno uno è l'ultimo carattere allora sostituisco alla parola tutta la parola tranne l'ultimo carattere quindi un range dal primo carattere compreso 0 all'ultimo carattere escluso e itero finché ci sono caratteri che non sono alfabetici in coda alla stringa questo se vogliamo lo possiamo fare qui tra la riga 9 e la riga 10 potremmo scrivere questo piccolo ciclo while in realtà la funzione rstrip fa già praticamente questo lavoro e quindi in questo caso uso rstrip perché mi ricordavo che esisteva e quindi ho usato quella altrimenti avrei potuto ripulire la stringa togliendo uno a uno i caratteri che mi dava fastidio in coda forse c'era un punto interrogativo nel testo se lo dite voi ci credo ma ci credo di più se lo vedo non mi pare che ci fosse si c'è so punto interrogativo e l'ho già tolto perché non c'è qua ecco qua si è vero quindi va tolto anche il punto interrogativo che giustamente ci eravamo dimenticati una soluzione come quella sotto che rimuove qualunque cosa che non sia un carattere alfabetico è sicuramente più robusta perché funziona sempre senza dover andare a cercare i caratteri mentre la strip poverina ha bisogno dell'elenco specifico dei caratteri da rimuovere it viene considerato una parola buona domanda se riteniamo che venga considerato una singola parola va bene così se invece vogliamo spezzarlo in due parole potremmo a sua volta prendere questa parola e fare uno split di questa parola sul carattere separatore apostrofo quindi ad esempio andiamo andiamo in console così non modifichiamo il programma se io avessi la parola che è it adesso qui scriverei dentro le parentesi ovviamente così ok it io potrei fare un parola punto split sul carattere apostrofo e allora avrei it e s è chiaro che it is dovrei poi farlo come caso particolare se io invece avessi una parola come il nostro lamb e provassi a fare lo split sull'apostrofo perché devo andare a immaginarmi un metodo che funzioni sia quando c'è l'apostrofo che quando non c'è ovviamente allora mi dà solamente un elemento perché quando faccio lo split su un separatore e questo separatore non c'è mi istituisce una lista che contiene un solo elemento e questo elemento guarda caso è la lista di partenza scusate è la stringa di partenza quindi se vogliamo possiamo qua quando ho spezzato la parola in parole a sua volta spezzarla in frammenti separati da apostrofo e stamparli uno a uno quindi a questo punto avrei un ciclo in più ancora annidato dentro questi se ci interessa lo possiamo fare farlo come it is come ha suggerito suavo diventa gestire una serie di casi particolari non banali perché a volte l'apostrofo s significa has anziché is e quindi non vorrei cimentarmi in questo casino però ovviamente qua dipende dalle specifiche di ciò che vogliamo fare e della precisione in cui vogliamo ottenere risultato ok ma da qui in poi come vi siete accorti dalla riga 7 in avanti stiamo ragionando su liste e string cioè il fatto che fosse in un file sta roba qua quasi non ci interessa più ok una volta che abbiamo fatto la restri per togliere il barrenne e sappiamo che tra l'altro è molto più comodo che non dover immaginate dove scrivere per testare il programma più volte scrivere a mano la fila strocca usando l'istruzione input come facciamo finora la leggo da un file e quindi riesco a avere tutto l'input pronto ogni volta ok quello che abbiamo ottenuto ovviamente abbiamo convertito una singola riga del file che è una singola stringa in un array di più stringhe ma questo è il nostro amico split che già conoscevamo che fa questo lavoro essenzialmente da qui è il stesso codice che noi abbiamo appena scritto quindi ricordiamoci questo tra l'altro esiste un metodo che forse non avevamo mai usato in questo caso può essere comodo split lines che è di fatto una sorta di split dove mentre split separa sugli spazi oppure split separa sul separatore che gli dico io può esserci la split lines che separa sugli a capo quindi se io avessi una stringa che contiene tante righe messe insieme separate da capo split line me la separa in una lista di stringhe in cui ciascuna stringa corrisponde a una singola riga vediamo tra un attimo come possiamo ottenere questo tipo di stringona che contiene magari più righe del file insieme vabbè qui ci sono un po' gli esempi di split ma queste già le conoscevamo dal capitolo sulle liste questo è la lettura per righe oppure lettura per righe con un po' di complicazioni per ottenere le singole parole per spezzare le singole parole avevamo anche detto c'è la possibilità di leggere per singoli caratteri allora per singoli caratteri voglio leggere ad esempio un carattere per volta da un file ho due modi o leggo una riga per volta e poi una volta che ho questa riga questa sarà una stringa e quindi vado a prendere uno per volta i caratteri della stringa e faccio ciò che ci devo fare oppure anziché il metodo read line uso il metodo read che riceve un argomento che gli indica il numero di caratteri da leggere quindi una frase lunga per dire se scrivo read di uno mi dà un carattere se scrivo read di due mi dà due caratteri i prossimi due caratteri qui continua a funzionare sempre il meccanismo del cursore quindi ogni volta che leggo qualcosa mi viene restituito lo posso elaborare e poi il cursore va avanti e quindi da lì leggerò poi i dati successivi la read si comporta in modo simile alla read line nel senso che quando arriva alla fine del file mi darà una stringa vuota se io faccio il read di un carattere ricordiamoci che ogni tanto questo carattere che leggo sarà un carattere di fine linea sarà un bar n normalmente sarà la m maiuscola di mary la minuscola di mary la r minuscola di mary eccetera eccetera lo spazio eccetera eccetera e dopo la b di lemb sulla prima riga ci sarà un bar n quindi ad ogni iterazione prendo un singolo carattere questo carattere compresi gli spazi, compresi gli a capo sono caratteri come tutti gli altri vengono trattati come caratteri come tutti gli altri quindi se uno mi dicesse conta quante sono le lettere maiuscole all'interno di questa poesia o gli apostrofi ebbè il modo potrei usare leggo un carattere faccio un ciclo in cui ad ogni iterazione considero un carattere solo senza dover leggere la riga e poi iterare all'interno dei caratteri della riga quindi il readd1 ci può servire in quei casi e alla fine lo useremo con uno schema molto simile a quello del readline cioè leggo il primo finché non ho trovato la fine del file leggo il successivo e qua in mezzo faccio l'elaborazione che voglio a differenza appunto readline mi dà una stringa che contiene una riga intera read mi dà una stringa che contiene per definizione un carattere solo oppure nessun carattere se sono arrivato alla fine del file se scrivo Massimiliano mi chiede se scrivo prima readd3 e poi readline conclude la riga e non la rilegge da capo continua a valere la regola che in cui se io una riga in cui ho letto uno per volta oppure in una readd3 i primi tre caratteri li ho già letti se faccio readline da questo punto mi prenderà da qua fino al fine linea non si torna mai indietro se con read ho letto un carattere successivamente facendo una readline quel carattere è già stato letto quindi la readline non me lo leggerà non me lo leggerà più ok un altro tipo di formattazione dei file che ci possiamo trovare sono file che contengono diversi campi sulla stessa riga noi finora abbiamo fatto l'esempio della filastrocca di Mary oppure un file che conteneva unicamente numeri un numero per riga sono due esempi semplici però molto spesso abbiamo dei file che contengono dei dati con una struttura dove è finito? prendo uno di esempi di quelli che abbiamo visto ieri ad esempio questo questo file è un file che contiene tre colonne in un certo senso un numero o il nome di una nazione e adesso non mi ricordo più che cosa rappresentassero questi questi numeri in dollari se era il prodotto interno lord oppure qualcosa di questo genere quindi sono file in cui ogni riga è composta da diversi campi oppure dunque quest'altro qui sui comuni italiani ancora più complicato in cui ogni riga è composta da parecchi campi in questo caso sono separati da punto e virgola c'è un primo campo 0-1 che se andiamo a vedere la prima riga mi dà la leggenda che è il codice della regione poi c'è il campo il secondo campo che è il codice dell'unità territoriale eccetera eccetera poi qui ci sarà il nome del comune il nome della regione il nome della provincia e un po' di dati di questo genere queste sono informazioni che arrivano dall'istat in pratica sui comuni italiani allora ogni riga è una riga se io faccio una read line la leggo tranquillamente ma questa riga contiene tanti campi che hanno dei significati diversi tra l'altro ogni riga conterrà quasi sempre lo stesso numero di campi se è un file diciamo così un file di testo che rappresenta una struttura tabellare di fatto una tabella una grossa tabella in cui i singoli campi sono separati le colonne della tabella sono separati da un carattere particolare in questo caso un punto e virgola in quell'altro caso era una serie di spazi eccetera e molti molti dati sono presenti in questo modo se voi ci fate caso questo formato dei comuni italiani è molto simile a quello che potete ottenere se prendete un file in Excel e lo salvate in formato CSV CSV è un formato che sta proprio per comma separated variables cioè variabili separate da virgola molti dati sono così si trovano in giro in questo tipo di formato allora come facciamo? e beh anche qua ci ingegniamo con il solito meccanismo del leggo una riga e poi faccio lo split dei campi sulla riga con la differenza che questo questi vari campi della riga non saranno tutti uguali come le parole ma ognuno avrà un suo significato proviamo a leggere ad esempio questo failone qui con i comuni italiani e vediamo ad esempio di stampare l'elenco di tutti i comuni italiani ok io devo solamente correggere perché nel copia e incolla la riga è andata a capo e non dovrebbe quindi l'intestazione di riga devono essere solo sulla riga 1 ok fate questa piccola correzione quindi immaginiamo di avere questo file a disposizione se avete scaricato lo zip che ho messo ieri ve lo trovate lì dentro fate questa le prime tre righe fate la correzione che ho fatto adesso unitele in una e proviamo a fare un programmino che legga che stampi l'elenco dei comuni italiani o anche solo vi dico quanti sono ma stampiamo e poi li contiamo ok allora il nostro programmino elenco comuni quindi stampa l'elenco dei comuni italiani li prendo da un nome da un file che sarà elenco comuni non punto file scusate comuni italiani punto txt ok e quindi posso iniziare un file uguale open file name virgola read apro il file lo chiudo mi cerco di ricordarmi subito di chiuderlo perché se no sono sicuro che mi dimentico e poi posso leggere una riga per volta dal file for riga in file rego una riga per volta dal file e ciascuna riga poi la divido nei suoi campi campi uguale riga punto split e lo split lo faccio sul carattere separatore che in questo caso per questo file specifico è un punto e virgola vedete che qua questi vari campi sono separati da un punto e virgola quindi io otterrò ogni volta ad ogni iterazione una lista che contiene la posizione 0 il primo campo nella posizione 1 il secondo campo nella posizione 2 il terzo campo eccetera eccetera eventualmente possiamo preventivamente a questo split toglierci dai piedi terminatore di riga perché altrimenti su questo vediamo vediamo in debug così capiamo meglio cosa stiamo facendo e poi possiamo stampare print campi per ora io provo a fare un run di questo poi magari lo fermeremo perché sarà troppo lungo ecco cosa mi stampa mi stampa tutto adesso poi non c'è stato tutto nella console non riesco a andare indietro fino all'inizio proprio perché ci sono troppi dati la console a un certo punto li butta via dimentica quelli vecchi allora dicevamo proviamo proviamo a andare in debug e vediamo cosa stiamo leggendo cosa stiamo facendo per rendercene conto apro il file leggo la prima riga allora già qui vedo che c'è un problema perché la prima riga che leggo non contiene dei dati ma contiene le intestazioni cioè sulla prima riga ci sono queste intestazioni colci l'unità territoriale bla 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 e quindi in realtà nel mio programma la dovrei la dovrei saltare questa riga non contiene dei dati veri poi faccio uno split quindi mi devo ricordarmi saltiamo la prima riga poi faccio lo split e ottengo questa campi che contiene i vari campi divisi se io vado a vedere ecco l'unico il fastidio che ho è che l'ultimo di questi campi conterrà il barra n di fine riga perché ovviamente il barra n sta nella stringa riga poi faccio uno split col punto e virgola lo split divide dove ci sono i punto e virgola e alla fine l'ultima stringa si becca il fine linea perché nessuno l'ha tolto prima e la split ovviamente se sto facendo lavorare la split sul punto e virgola lei il carattere di fine linea lo considera come un carattere come tutti gli altri non va di sicuro a dividere anche sul fine linea ok quindi sarebbe più pulito prima rimuovere il barra n e poi e poi fare lo split ok vediamolo sulla seconda riga la seconda riga che contiene già un nome di un comune vero e proprio anche qua sull'ultimo campo è diciamo così sporcato inquinato dal barra n allora cerchiamo di correggere queste due piccole anomalie poi c'è una terza la prima è rimuoviamo il fine linea quindi r strip r strip prima di farlo split e poi l'altra cosa che dobbiamo fare è non considerare la prima riga del file perché non contiene dei dati veri del comune quindi in questo caso come posso fare beh io posso fare in due modi o leggo la prima riga del file e la butto via in file punto apidline leggi e scarta la prima riga la leggo e non la memorizzo in nessuna variabile chi se frega potrei scrivere rio uguale ma non la uso però la readline la faccio e quindi la prima riga viene scartata quindi se eseguissi questo dovrebbe la prima volta esegui la readline che non fa nulla e non lo metto in nessuna parte la prima volta che faccio le alterazioni del ciclo vedete che riga contiene già i dati sul primo comune quindi questo è il modo più veloce per scartare la prima riga altri modi l'altro modo potrebbe essere quello di avere un flag quindi io scriverei magari in altri casi diciamo così più complessi ci può servire io direi che la prima riga uguale true quindi non faccio questa readline mi metto un flag che dice sono sulla prima riga allora se sono sulla prima riga allora dico faccio rimetto il flag falso altrimenti faccio ciò che devo fare quindi questo ciclo for la prima volta che entra troverà prima a true perché l'ho appena messa a true qua sopra quindi entra in questa if non fa nulla se non mettere prima a false perché oramai a questo punto non sono più sulla prima riga e quindi tutte le altre iterazioni successive dalla seconda in avanti cadrò nel ramo else nel quale farò il lavoro che devo fare quindi questi sono i due modi essenzialmente come vedete quello della readline è molto più diretto questo invece è più generico per saltare una certa serie di condizioni gioco con dei flag per far sì che mi dicano se sono o non sono nella condizione di leggere o elaborare la riga successiva ok sto guardando i messaggi che avete nella chat ma direi che non ci hai fatto neanche la foto della parte sinistra dello schermo quindi diventa difficile capire se quel file era nella stessa cartella del file Python oppure no ok c'è un altro problemino che però risolviamo a parte che è rimasto nel nostro nel nostro programma per ora che era la gestione dei caratteri particolari caratteri accentati adesso qui l'avevamo visto perché ci capita che il primo comune nel file è agli e che contiene un accento oppure questo c'è anche un altro qua vedete che i caratteri accentati non vengono fuori non vengono interpretati correttamente nel nostro programma questo però non è un problema nostro è un problema della codifica del file che ho usato come esempio che probabilmente non usa la codifica unicode ma usa una delle codifiche precedenti unicode le tabelle asci estese cosiddette e quindi è un problema di come è stato salvato questo file quindi non dipende dal nostro programma non ci possiamo far nulla devo solo devo convertire quel file in modo che che sia leggibile correttamente quindi per ora vi chiedo solo di ignorare il fatto che le lettere accentate vengano vengano male e sistemiamo i file vediamo un attimo se per caso no non so se non so se Pai Charming è in grado di capire questa conversione UTF-8 file encoding dovrebbe essere un UTF-8 questo sistema è un sistema a parte è solo un problema di formatazione del file non mi ricordo più dove l'ho scaricato e quante volte l'ho rimaneggiato quindi può darci che ci sia un pasticcio ok a volte ci sono come dice Andrea due punti virgola consecutivi sì e infatti c'è il campo vuoto corrispondente c'è la stringa vuota corrispondente perché eventualmente in quel caso adesso non so qual è il campo 1 2 3 4 5 6 7 8 l'ottavo campo è questa cosiddetta denominazione in italiano e può darsi oppure denominazione in altra lingua ecco denominazione in altra lingua non è detto che tutti i comuni abbiano una versione in altra lingua sapete le città frontaliere possono avere più di un nome nella lingua italiana e nella lingua diciamo così della regione autonoma quindi in questo caso quando è vuoto vuol dire che quella parola quel dato non c'è non è definito ok ma noi ciò che volevamo fare era stampare l'elenco dei comuni abbiamo detto allora non vogliamo stampare tutta questa listona qua allora l'elenco dei comuni 1 2 3 4 5 6 il nome del comune è il sesto è il sesto campo giusto 1 2 3 4 5 6 si è il sesto campo e quindi sarà l'indice 5 quindi non voglio stampare tutti i campi ma solamente campi di 5 ad esempio campi il quinto campo della stringa della scusate della lista se faccio così mi stamperà solo i nomi dei comuni stessi sempre con quei problemi unicode che sono sempre rognosi ok quindi in questo caso avevamo un file che conteneva dei dati strutturati lo possiamo tranquillamente gestire noi abbiamo stampato gestire con le liste noi abbiamo stampato un campo che era un campo di tipo stringa in realtà se volessimo stampare altri campi ad esempio cosa possiamo prendere come vabbè ci sono dei campi numerici ad esempio il codice regione ovviamente campi di 0 sarà una stringa quindi se volessi gestire questo codice numerico dovrò convertirlo in intero fare un nint di questa stringa questo 0 1 2 1 2 3 il quarto campo anche questo è un campo numerico e che per qualche motivo contiene degli spazi quindi se io volessi convertirlo e usarlo lo ripulirei lo convertirei probabilmente sotto forma di intero facendo un int a questo punto vengono anche buttati via gli spazi prima e dopo il codice di avviamento postale credo che sia questo no non è questo è un altro codice scusate quindi niente questo è un codice numerico su 6 cifre un codice interno il codice di avviamento postale non c'è in questa tabella però vedete che ci sono alcuni campi di tipo string altri campi di tipo numerico e quando io li leggo con la split la split non guarda in faccia nessuno e fa semplicemente tante string ma se dovessi poi elaborarli ecco magari li convertirei un'altra cosa che posso fare che nessuno mi vieta quando io leggo queste informazioni è di memorizzarmi da qualche parte perché in questo caso ho preso questi comuni italiani e li ho stampati ma io avrei anche potuto costruirmi una mia lista dei comuni come lista vuota e aggiungerlo append scusate no append all'interno di questa lista e così poi dopo che ho finito di leggere il file posso tranquillamente stampare i comuni la lista la differenza è che mentre prima elaboro una riga la leggo e subito devo farci qualcosa ad esempio la stampo qui in questo caso ho letto una riga analizzo i campi estraggo le informazioni che mi serve da quella riga e me la salvo in una struttura dati in questo caso questi comuni interna mia che poi sopravvive anche dopo la chiusura del file e quindi poi ho questi comuni ovviamente qua stamperò la stessa cosa semplicemente me la stampa come lista anziché come come un comune per riga e poi su questa struttura dati ci posso fare ciò che voglio posso trovare più lungo e più corto mettere in questo caso metterli in ordine alfabetico perché non lo sono sembro in ordine alfabetico ma sono in realtà dividi per regione e poi all'interno di una regione in ordine alfabetico e quindi posso fare un sort e lavorarci tranquillamente anche in un ordine diverso dall'ordine con cui erano presenti nel file perché fino a quando io sono dentro questo ciclo for sono obbligato a lavorare nell'ordine con cui trovo i dati nel file se devo lavorare in un ordine diverso sono obbligato a memorizzarmi i dati da qualche parte e poi riusarli dopo quindi avremo sempre una scelta quando abbiamo a che fare con dei file una scelta a monte leggo il file mi memorizzo i dati e poi ci lavoro e quindi mi costruirò delle liste che contengono parte dei dati del file oppure leggo il file e mentre leggo lavoro riesco a fare tutto ciò che devo fare e quindi alla fine della lettura del file ho già fatto tutto ma non mi è rimasto niente non ho avuto bisogno di memorizzare nulla non tutti gli esercizi si possono fare nei due modi però in molti casi c'è questa alternativa è una domanda che ci possiamo fare che ci dobbiamo fare ok ok allora questo è il caso fortunato ovviamente quello in cui i campi presenti su una stessa riga sono delimitati con qualche carattere particolare la virgola il punto virgola il due punti a volte la barra verticale separano un campo dall'altro e quindi analizzare i campi è facilissimo perché basta fare uno split sul separatore attenzione che lo spazio molte volte non va bene come carattere separatore perché lo spazio è frequente guardate qua in United States che compaia già dentro dentro il nome di un campo dentro il contenuto di un campo quindi lo spazio va bene per separare parole ma se ho un contenuto più strutturato ho bisogno di un separatore che non possa essere un carattere separatore che non possa essere confuso con i contenuti del file stesso con i contenuti dei dati stessi per questo si cercano di usare virgole punte virgola e non gli spazi perché altrimenti avrei una confusione qua e non saprei se United States sono due campi diversi o un campo unico con uno spazio al suo interno ecco se il separatore ha due punti questo dubbio non c'è poi io qua salterei una parte delle slide dove sia le slide che il libro vanno avanti in una lunga disquisizione su che cosa fare quando ho un file ambiguo in questo caso infatti quello abbiamo marcato come argomento avanzato in questo caso qualcuno dotato di intelligenza inferiore alla media ha deciso che questi dati dovevano essere separati con uno spazio senza accorgersi che uno spazio poteva far parte del nome stesso e quindi qui si va avanti sul libro a cercare di capire come facciamo a analizzare un file di questo genere e la faccio solo breve un trucco possibile ma che non è una soluzione generale perché dipende dai casi è di dire guarda che l'ultimo campo è un campo numerico e quindi posso iniziare a sganciare l'ultimo campo e poi processare il resto come una cosa unica però funziona solamente se ho due campi al massimo e se quello di destra ad esempio uno di due sicuramente non contiene spazi in questo caso ho usato r split che è una split che parte da destra e quindi di fatto quello che ha detto qua è prendi la riga dividila usando lo spazio come separatore partendo da destra e non partendo da sinistra e fermati quando hai trovato il primo elemento però qua si va avanti di caso in caso in casi particolari qui fa vedere invece vado a cercare finché trovo delle cifre decimali allora sarà il campo finale eccetera eccetera ma questo come dicevo saltiamo questo argomento perché normalmente per fortuna non ci troviamo file di questo genere altre cose questo è anche complicato se avessimo questo file come lo gestiamo sembra carino perché ha tre campi il problema è che sono belli incolonati sono belli da vedere però se io lo splitto sullo spazio va bene perché il primo campo sarà questo il secondo campo sarà questo il terzo sarà questo e poi dentro decido cosa farmi di questi numeri però ci sono degli spazi anche qua allora non posso fare uno split perché altrimenti in questa riga anziché darmi tre campi mi ne darebbe uno due tre quattro cinque e sei questo questo file infatti non è un file separato da spazi tra l'altro poi ci sono non possiamo neanche dire la vediamo tutte le sequenze di lettere perché qua ci sono delle parentesi tonde è un file incolonnato in cui i singoli campi hanno un'ampiezza fissa quindi il primo campo occupa i primi uno due tre quattro cinque sei sette caratteri tra probabilmente i primi sei e poi c'è uno spazio che li separa poi il secondo campo occupa un certo numero di caratteri che adesso poi proviamo a contare c'è scritto qua sotto 50 caratteri facciamo mi dice la lunghezza della selezione e poi l'ultimo campo occupa i restanti guardate che fino qui ci sono tanti spazi che noi non li vedevamo prima ma ci sono nel file occupa i restanti 50 caratteri quindi in realtà questo file si elaborerebbe in un modo diverso mentre l'elenco dei comuni lo elaboravo splittando sul sul nome sul separatore due punti qua dovrò splittare la riga contando le colonne proviamo a vederlo questo qua si chiama nazioni stampa nazioni ok allora qui abbiamo leggi e analizza il file si chiama raw data 2004 2004 .txt ok allora file name uguale outdated 2004.txt in file uguale open file name in lettura in file .close questo file si è vero io l'ho aggiunto stamattina quindi non c'era in quelli della carta dello zip di ieri e ci sarà nello zip che metto oggi ovviamente aggiornato ok allora solito meccanismo while riga for riga in in file a questo punto beh a questo punto facciamolo a mano ci sarà il numero ci sarà il nome e ci sarà il valore chiamiamolo valore e questi li otteniamo estraendo delle porzioni della stringa stessa quindi il numero lo ottengo riga abbiamo detto erano i primi sei caratteri quindi due punti zero un due tre quattro cinque sei e questo lo converto in intero poi ho il secondo campo che è il nome della nazione che sarà la riga che che parte dal carattere e qui si sbaglia sempre perché sono sei più uno spazio sette dall'ottavo carattere l'ottavo carattere è quello di indice sette lunga cinquanta sette più cinquanta fatemi fare l'addizione esplicita così sono sicuro di non sbagliare e poi avrò il valore che è la riga che va dal carattere abbiamo detto sette più cinquanta va cinquantasette più c'è uno spazio va cinquantotto quindi dovrebbe essere dal cinquantanove in poi fino alla fine vediamo se è vero cosa abbiamo cosa abbiamo prodotto allora a parte gli a capo e vari perché dobbiamo ancora ripulire queste cose no direi che abbiamo sbagliato qualcosa perché non ho beccato il il segno di dollaro infatti voi siete più attenti ma avete detto che andava ci andava un cinquantotto qua ok adesso ovviamente questi dati qui ci sono degli spazi di troppo qui ci sono degli a capo di troppo questo già lo sapevamo quindi ad esempio il nome sarà questa riga a cui poi posso strip strippare gli spazi inutili e anche il valore anche questo gli farò uno strip degli spazi inutili e della capo finale che anche era inutile quindi rifacendo questo eccoli qua numero nome valore il nome contiene degli spazi al suo interno non mi dà problemi se poi volessi essere bravo e volessi creare un altro file in cui questi dati sono più facili da leggere potrei creare un file magari separato da non da virgole attenzione perché le virgole sono qua dentro non da parentesi ma magari il simbolo dei due punti potrebbe andarci bene quindi ad esempio in questo caso potrei adesso lo stampo a video però potrebbe essere numero due punti nome due punti valore mi stampa queste cose in un modo più strutturato separate con due punti così per chi viene meno di me per chi viene dopo di me è più facile andare a leggere quindi questa cosa qua potrei creare un secondo file con i dati strutturati però continua a valere lo stesso ragionamento una volta che ho letto il file il grosso del lavoro adesso è lavorare è lavoro di string alla fine è sempre lavoro di string prendo separo analizzo converto eccetera gli spazi interni non li stripa perché strip non lo fa la funzione strip non cancella tutti gli spazi se no farei un replay di spazi con stringa vuota la strip elimina gli spazi leading and trailing cioè quelli all'inizio e quelli alla fine quelli introduttivi e quelli conclusivi quindi solo davanti e dietro gli spazi in mezzo non vengono toccati si poteva anche fare separato uguali due punti sì solamente nel caso della print se invece avessi voluto fare una write invece dovevo passare una stringa composta e quindi compormela io in questo modo quindi ogni file che trovi diciamo così modo diverso che devi inventarti per riuscire a elaborare sulle slide c'è un altro esempio potrebbero esserci dei dati in cui nazione e valore nazione e valore sono divisi su più righe diverse anche questo è facile da leggere perché i campi sono ben separati ben separati da una capo però ovviamente con la read line non riesco a leggere tutti i campi ad esempio China e la sua non so se la popolazione India e la sua popolazione Stati Uniti e la sua popolazione in unica read line dovrò fare una read line per la nazione e una read line per la popolazione quindi le righe pari la 0 la 2 la 4 la 6 saranno le nazioni le righe dispari la 1 la 3 la 5 la 7 e saranno la popolazione e poi metto insieme i dati quindi in questo caso dovrò impostare il ciclo in un modo leggermente diverso ad esempio come in questo codice leggo la prima riga lasciamo perdere il while diverso da vuoto perché sappiamo che è la fine del file ma leggo la prima riga e la memorizzo come country name poi leggo una riga successiva e la memorizzo come population e poi faccio ciò che devo fare con la popolazione col country insomma le stampo le elaboro le sommo faccio la media qui dipende dall'operazione che mi è stata chiesta di fare e poi l'ultimo read line serve per leggere la riga successiva e prepararsi alla successiva iterazione quindi alla successiva nazione quindi si vede che si vede che ad ogni ad ogni iterazione del ciclo while io faccio due read line non una sola una per la nazione e una per la popolazione quella per la popolazione è qui è questa quella per la nazione è la prima volta per la prima riga la faccio fuori e per le volte successive la faccio come ultima istruzione prima di ricominciare questo ormai è un pattern di programmazione che abbiamo già sfruttato milioni di volte quindi il for in non lo uso in questo caso perché è vero che leggo una riga per volta ma le righe che siano pari che siano dispari le devo trattare in modo diverso allora mi conviene fare un while in cui vado a leggere con una condizione mia ad ogni iterazione del while leggo due righe e non una potrebbero essere tre potrebbero essere quattro eccetera quindi è tutto sommato semplice meno semplice che un separatore tipo due punti su una sola riga però da molti meno problemi perché a questo punto la singola riga il nome della nazione può contenere spazi può contenere virgole può contenere due punti può contenere qualunque cosa perché tanto c'è il nostro caro amico fin in linea che li separa ma purché il nome della nazione non contenga a sua volta il fine linea ma per fortuna non le hanno ancora inventate queste cose Marco mi chiede se esiste una funzione che conta quante righe ci sono in un file di testo la risposta è no nel senso che devi leggerle e contartele in realtà lo possiamo fare in un'unica istruzione e adesso vediamo come ci sono anche degli altri metodi per leggere l'intero file in un'unica istruzione sola cioè adesso finora abbiamo fatto tanta attenzione a leggere solamente un pezzettino per volta e elaborare quel singolo pezzettino questo entra nella logica di elaborazione del file potete avere un file che magari a lungo 10 gigabyte perché contiene i dati di tutte le popolazioni di tutti i paesini sparsi in tutto il mondo e ovviamente non vorrete che il vostro programma legga 10 gigabyte in memoria e poi non ti sta nel computer ti va in palla eccetera e quindi il file potrebbe essere potenzialmente molto grande e quindi noi cerchiamo di leggere solamente un pezzo per volta e memorizzarci solamente i dati che effettivamente ci servono quindi molte elaborazioni del file si cercano di fare senza mai leggere l'intero file in memoria però quando invece un file non è poi così grande come Mary aveva una pecorella non è che sia questo file così enorme allora possiamo anche pensare di leggere l'intero file in un'unica chiamata in un'unica chiamata ad esempio della funzione read che legge l'intero file in un'unica stringa quindi non lo metto dentro un ciclo lo chiamo una volta sola lui mi dà una mega stringa che contiene tutto il file unica stringa ovviamente questa stringa al suo interno avrà dei caratteri barra n dei caratteri di a capo che che mi permettono poi di ricostruire dove sia la posizione delle varie righe e allora tipicamente questa mega stringona la la poi divido subito separando i barra n oppure uso direttamente split lines l'avevamo detto prima che ci sarebbe tornato utile questa funzione che fa esattamente questo lavoro quindi in file punto read mi dà una giga stringa lunga quanto è lungo il file split lines mi dà una lista di stringhe e ciascun elemento di questa lista sarà una stringa che corrisponde a una singola riga del file e quindi ce l'ho già in un'unica lista lista che contiene le righe righe già depurate dal barra n perché la split fa il suo lavoro di split quindi il separatore lo toglie e poi ovviamente ho una stringa per riga e ci devo lavorare con una lista di stringhe lista di stringhe cioè abbiamo lavorato finora nella settimana scorsa esiste anche la scorciatoia nella scorciatoia che è un metodo che si chiama read lines che combina già da solo il read punto split lines e quindi mi restituisce già direttamente una lista che contiene tutte le righe del file lines è una lista di stringhe ogni lines di 0 sarà la prima riga lines di 1 sarà la seconda riga e così via allora il difetto di questi questi sono chiaramente metodi molto veloci il difetto è che si leggono l'intero file senza guardarlo quindi magari di un intero file di 10 gigabyte mi interessa solamente 4 dati io l'ho comunque letto tutto e memorizzato tutto e quindi nel mio programma python deve avere la memoria sufficiente per contenere tutti quei dati e a volte magari è sconveniente o inutile o controproducente quindi a volte entrando in mentalità esercizi che vi proponiamo ci sarà scritto magari esplicitamente la dimensione del file non è nota a priori oppure può anche essere molto grande e questo diventa un campanello d'allarme che vi dice attenzione non leggete tutto il file in botto in un unico botto ma cercate di estrarre solamente i dati che vi servono se invece non c'è nessuna ipotesi o si può fare un'ipotesi che il file abbia dimensioni ragionevoli allora si può andare su questa strada in cui si legge tutto quindi abbiamo almeno quattro modi diversi per fare la stessa cosa uno è questo read seguito da split lines o split barren l'effetto è leggo l'intero file e costruisco una lista di stringhe ogni stringa è una riga secondo modo read lines fa esattamente la stessa cosa fa esattamente la stessa cosa che è equivalente a fare di fatto leggere una riga per volta e fare un append di una singola riga in realtà non è proprio equivalente perché qui viene appeso anche il barren il read lines credo che tenga il barren dentro c'è qualche piccola differenza in questi metodi non sono esattamente al 100% equivalenti perché lo split lines toglie il barren mentre invece il read lines lo tiene se ricordo bene dobbiamo provare per essere sicuri però concettualmente sono la stessa cosa a meno di quel carattere rompiscatole finale quindi read lines mi dà una lista di corrispondente le varie righe che è come se me la costruisci me la potrei costruire a mano io costruisco una lista vuota e poi per ogni riga del file la appendo e alla fine avrò tutte le linee c'è ancora un altro modo di scrivere la stessa cosa però non lo consiglierei troppo perché non è troppo leggibile ma esattamente fa la stessa cosa è usare qui diciamo così un trucco che si ricorda che il file è una sequenza dicevamo prima il fatto che il file sia una sequenza mi permette di usare l'istruzione for ma io posso usare anche la funzione list per creare una lista a partire da una qualunque tipo di sequenza noi abbiamo usato list per fare ricordate una copia di una lista esistente allora crea una nuova lista che contiene i contenuti di quella lista in realtà list funziona la funzione list funziona con qualunque tipo di sequenza è anche un file a sua volta una sequenza quindi in questo modo sto dicendo costruisci una lista e popola il contenuto di questa lista andando a prendere gli elementi di questa sequenza cioè il file gli elementi di questa sequenza sono le sue righe gli elementi di un file un file è una sequenza di righe quindi le stesse righe che vengono restituite nel ciclo for sono quattro modi che fanno tutti la stessa cosa alla fine avete una lista di stringhe e ogni elemento di questa lista quindi ogni stringa è una singola riga del file fatto questo potete chiudere il file e lavorare con la vostra lista di stringhe questa lista di stringa a loro volta se contiene dei campi dovete splittare sul separatore se contiene delle parole dovete splittare sugli spazi eccetera eccetera le cose che abbiamo già visto Marco mi aveva chiesto 10 minuti fa se posso contare quante sono le righe di un file di testo basta che tu faccia questo punto length cioè length di questa cosa qua la lunghezza di questa lista che ho ottenuto length di lines ovviamente mi dice quante sono le righe però le ho dovute leggere tutte quindi non c'è nulla che mi dica quante righe ci sono in un file prima di leggerle perché l'unico modo di sapere quante righe ci sono in un file è contare il numero di caratteri di fine linea non c'è altro santo non te lo sa dire il sistema operativo prima di aprire e leggere il file sei obbligato a aprirlo e leggerlo tutto quando hai finito di leggerlo sai quante righe ci sono è come se io ti chiedessi quante volte c'è la lettera T maiuscola all'interno di un file e tu mi dici boh fammelo leggere e conto ogni volta che incontro la T il caratteri di fine linea non è diverso da questo punto di vista quindi fino a quando non so fino a quando non ho letto tutto e può essere costoso leggerlo tutto se il file è molto grande non te lo so dire questo è un modo comodo dal punto di vista della programmazione per leggerlo tutto ma ha il difetto che lo memorizza anche tutto e quindi occupa memoria all'interno del programma se io invece volessi contare i fine linea semplicemente per sapere quante sono le linee senza memorizzarlo potrei usare semplicemente un ciclo for e all'interno di un'iterazione incremento un contatore non ci sono modi più diretti di farlo ok questo è un po' riepilogo delle funzioni principali che abbiamo visto quindi per la lettura abbiamo open e close ricordiamoci close è poverina è la più dimenticata però è anche utile ieri su Slack parlavo con uno di voi che facendo gli esercizi su REPL e non su PyCharm non riusciva a creare un file perché si era dimenticato la close del file stesso questo succede perché REPL quando esegue un programma alla fine del programma non termina non chiude l'esecuzione dell'interprete Python il programma rimane attivo perché voi sapete che nella finestra di destra di REPL potete ancora scrivere il codice e vedere i valori delle variabili quindi quel programma è rimasto vivo avete fatto una write in un file e fino a quando il file non viene chiuso i dati non vengono realmente scritti su disco normalmente se ci dimentichiamo una close dentro un programma scritto su PyCharm alla fine del programma ci pensa il sistema operativo chiudere il file e scrivere i dati in REPL però no perché se non lo chiudiamo esplicitamente il REPL mantenendo l'esecuzione attiva del programma non chiude i file in automatico quindi ricordiamoci sempre le close sia in lettura che principalmente per buona educazione sia soprattutto in scrittura perché è quel punto in cui vengono scritti realmente i dati su disco e poi abbiamo le varie forme di lettura read line per leggere una riga per volta con tutte le sue semplificazioni read da sola mi dà la giga stringa read 1 mi dà un carattere per volta oppure quanti caratteri voglio e poi invece scrittura è molto più facile perché c'è un metodo write che prende una stringa e l'aggiunge al file in realtà c'è anche se non sbaglio un write lines che prende una lista di stringhe e l'aggiunge al file aggiungendo i separatori eccolo qua qui l'abbiamo scritta preso da un altro sito i metodi principali per leggere e scrivere tutto il resto di cui abbiamo ragionato su cui abbiamo fatto esercizi se ci pensiamo un attimo sono lavori sulle stringhe e sulle liste il vero lavoro sul file è effettivamente mentre leggo e mentre scrivo capire in che formato lo faccio e con che granularità la faccio un carattere una riga una parola una parola non la posso fare o l'intero file su questa domanda non le ha zero non ho capito a che cosa ti riferisci quindi per favore spiega meglio e poi io qua mi fermerei a questo punto al write il write il write il write semplicemente aggiunge è l'open che eventualmente zera il file quando faccio open in scrittura il file esistente viene zerato ok e poi il write invece aggiunge aggiunge contenuti ok allora io a questo punto farei diciamo così chiudendo chiudendo questo argomento trovate sulle slide quest'altro esempietto se l'avete scari devo aggiornare recentemente quindi quest'altro esempio molto semplice in cui legge due dati per riga è un altro un altro caso particolare di quelli che abbiamo visto in questo caso ci sono solo numeri quindi alla fine farà uno split e poi va a prendere con un int singoli campi un altro esempio molto semplice per impaticirci un pochino con questo l'abbiamo scritto sia con la versione for che con la versione while ma non è non è diverso da quelli che abbiamo fatto finora come dicevo facciamo una pausa risolito i 15 minuti e poi andiamo avanti diciamo così su su questo capitolo quindi sono le 11.30 io direi che ci possiamo rivedere alle 11.45 questa volta precise perché abbiamo finito alle 11.30 precise buona pausa ci vediamo dopo grazie a tutti